Paola cerca casa e lo fa girando per l'Italia in compagnia dei Radiohead. Paola, come avrete capito, è l'orsa polare protagonista della nuova campagna ecologista di Greenpeace, Save the Arctic, che è stata adottata come mascotte dalla band e si aggira tra i loro fan in cerca di coccole e carezze. L'orsa Paola è ovviamente un robot, così ben realizzato da sembrare vero, che i Radiohead stanno portando con loro in tour per sensibilizzare l'opinione pubblica sullo scioglimento dei ghiacci e le estrazioni petrolifere nell'Artico, dove in caso di incidenti o fuoriuscite si rischierebbe di compromettere un ecosistema delicatissimo. Tom York, frontman della band, si è impegnato a sostenere la campagna di Greenpeace e ha lanciato un appello ai fan a sottoscrivere la petizione per salvare l'Artico durante le quattro tappe italiane del tour, Roma, Firenze, Bologna e Codroipo in provincia di Udine. Il contributo dei Radiohead si concretizza anche con il brano Everything in its right place, usato come colonna sonora per lo spot della campagna.